Assessore di Giacinto, la Commissione Europea finanzia We Are The Planet, un progetto presentato dalla provincia di Teramo, di cosa si tratta? Sì, è un nuovo progetto comunitario recentemente approvato che vuole promuovere la cultura dell'ambiente, soprattutto legata al tema dell'acqua, verso i giovani, soprattutto nelle scuole, i ragazzi della fascia compresa tra i 6 e i 18 anni. È un progetto su cui abbiamo lavorato molto e teniamo in maniera particolare perché risponde a linee guida dell'Unione Europea, soprattutto verso l'azione, verso i più giovani, di promozione di queste tematiche di ampio respiro. È un progetto che coinvolge quindi giovani e scuole, ma quante scuole? Sul numero vedremo chiaramente rispetto alle scuole che risponderanno al nostro input, però crediamo di poterle coinvolgere tutte. Sicuramente è un finanziamento importante, ma quanto ammonta? Il finanziamento globale è di 1.300.000 euro circa, la quota parte della provincia è invece di 300-350.000 euro. Assessore Marconi, cosa prevede il progetto comunitario We Are The Planet? Sì, è un progetto diciamo così tecnologico, molto bello, che sicuramente vedrà i ragazzi coinvolti in questa iniziativa. È un progetto dove ci saranno dei centri didattici nei paesi coinvolti in questo progetto. Il centro didattico per quanto riguarda la provincia di Teramo verrà fatta presso l'università di Teramo, presso il reparto di scienze della comunicazione. E quindi vedrà coinvolti tutti i ragazzi delle scuole che vanno dai 6 ai 18 anni. Quindi una partecipazione attiva rispetto alle tematiche ambientali, in particolar modo la tematica dell'acqua.